Benvenuti nel mondo degli orologi Dugena. Dugena è un marchio di orologi tedesco fondato nel 1917 ad Armstadt, una città nella regione dell'Asia. Il nome Dugena deriva dall'abbreviazione di Deutsche Urmacher Genossenschaft Alpina, cooperativa orologiaia tedesca alpina. L'obiettivo iniziale dell'azienda era quello di produrre orologi meccanici di alta qualità a prezzi accessibili per il mercato tedesco. Durante la sua lunga storia, Dugena ha saputo mantenere una forte presenza sul mercato europeo grazie alla sua attenzione per il design, l'innovazione e la qualità dei materiali utilizzati. Il marchio si è fatto conoscere per la sua affidabilità e precisione nel settore degli orologi. Oggi, Dugena offre una vasta gamma di orologi, tra cui orologi da polso per uomo e donna, orologi sportivi, orologi da tasca e orologi da parete. La collezione di orologi da polso comprende modelli con movimenti al quarzo e automatici, cassa in acciaio inossidabile, quadrante condatario, calendario e cronografo. Gli orologi Dugena si distinguono per il loro stile classico ed elegante, ma ci sono anche modelli più moderni e sportivi. Inoltre, Dugena offre una serie di orologi certificati ISO, che garantiscono una resistenza all'acqua fino a 200 metri e sono dotati di una serie di funzionalità avanzate, come un sistema di illuminazione notturna e un indicatore di data. Tra i modelli più famosi di Dugena, c'è l'orologio da tasca Jul Jürgensen, che vanta una storia lunga più di 200 anni e che è stato riproposto dal marchio tedesco in una versione moderna ed elegante. Gli orologi Dugena sono apprezzati anche per la loro robustezza e resistenza, caratteristiche che li rendono ideali per l'uso quotidiano. In conclusione, Dugena è un marchio di orologi tedesco con una storia lunga e ricca di tradizione, che offre una vasta gamma di orologi di alta qualità, dall'estetica classica a quella moderna, con una particolare attenzione alla precisione e all'affidabilità. Scegli un orologio Dugena per il tuo stile personale e affidati alla qualità e all'affidabilità di un marchio storico nel settore degli orologi.